C'è un po' difficile dire la Chiesa, no? Perché, come sa lei, questa celebrazione sta proseguendo in tutte le diocesi in tutto il mondo, no? Quindi ogni diocese ha i suoi punti essenziali che guida la celebrazione. Noi ci troviamo qui a Roma e qui sono ragionati non so quanti sacerdoti che hanno già cominciato oggi con alcuni discorsi e poi abbiamo celebrato questa Messa. Le tante aspettative io direi, cioè soltanto ciò che ho cercato di condividere lì nell'Eucaristia, no? Di fare gli sacerdoti forse servissi di una piccola, diciamo, qualcosa di piccolo che ha detto San Paolo nella sua Letta ai Corinzi, no? Parlando della tradizione dell'Eucaristia, Paolo ha detto ciò che ho ricevuto io è ciò che io do a voi. Questo proprio aveva da fare con la tradizione come è costituito, è stabilito l'Eucaristia come sacramento. Però io ho voluto prendere quello lì e fare un po' di trasferimento per fare un piccolo punto. E quel punto è che volevo soltanto suggerire ai sacerdoti che al momento di distribuire la comunione, al momento di dare la comunione alla gente, ai fedeli, di avere questa piccola frase di San Paolo in mente. Ciò che do a te è ciò che ho ricevuto io prima. Vedi? E essendo così, allora il sacerdote si ricorda sempre che egli deve essere modello di ciò che egli sta dando alla gente. C'è la stessa comunione che ha ricevuto lui, ma l'ha ricevuto prima sulla terra e poi scende per dare questa comunione alla gente. Quindi io do ciò che ho ricevuto. Vuol dire che tutta la spiritualità dell'Eucaristia non deve essere soltanto sacerdotale, ma deve essere pure quella dei fedeli. E i sacerdoti devono fare tutto di promuovere anche nella vita dei fedeli tutti i valori, tutte le spiritualità che egli scoprono, sviluppano nell'Eucaristia. Quindi questa è pure la cosa che io, con questa diciamo, se questa è qui reso con i sacerdoti avranno qualcosa sempre di, cioè qualche sfida, qualcosa che si spinge un po' a cercare di restare fedeli. Perché si tratta di due cose essenziali, due caratteri, due attitudini. Quelli di obbedienza suprema, come ha fatto Gesù al suo padre, e quelli del servizio, e diciamo solidarietà fraterna, no? Gesù è stato fedele al suo padre, restando docile e obbediente fino alla morte. Ma aveva accettato di divenire uomo come noi, ha voluto pure partecipare alla nostra natura. Dunque c'è questa solidarietà fraterna con noi, e l'obbedienza totale al suo padre. Questo è il sumo dei due punti dell'Eucaristia. Se Gesù è crocefisso sulla croce, è solo per essere obbediente al padre. Quindi il senso dell'Eucaristia, questa obbedienza, è la solidarietà fraterna.